Un applauso! A tua parte, Willemann! Canteremo lui tutti i brani dei prossimi! Il massimo si prepara, voglio dire una cosa. Io non amo molto i conti, proprio la mia intenzione che si crea in questi. Ho tutto l'esperto di più organizzare le cose per i giudici. Io ho sempre preso a questi eventi come un uomo per incontrarsi, condividere, vogliersi bene e fare più musica, insomma, quello che si vuole. Per dimostrare che credo in quello che dico, mi cambio comunque il non vincitore della strada. Soprattutto vinci con dei gol, perché sono stati fantastici. Un applauso a dei gol! Venga! Inoltre ho io! Mi ho cambiato la mia, devo partire! Grazie un po'. A fare una responded a vedere qua? Va bene, stanno via solo tutti. Non solo io, sono lui, per te. Eh, è un capitolo. Grazie. Patronomi di tempo di nuovo. Grazie a voi. Siamo tagliati. Grazie a te per il siglorato del processo. Primo tramo, sin ultima. non c'è tipo appena Massimo, mi dai a sbira primo prato a scena senza letto che è una buccia di buccia e manca molto a sbira luce, te faccio la giante io non far più di un palco Massimo, se te ne è vado a sentire quello che non sente non far più di un palco che si tiene vado a sentire si vuoi stare a spiega sui mentori venite contando a culo si vuoi stare a spiega sui mentori 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.